Questo è 3 per te Fassina, tre auto scelte per voi ogni giorno dal Car Village. Audi A3 Sportback S-Line, 1.000 benzina, 110 CV, 27.300 km percorsi, sensori parcheggio, clima automatico, sensori luce, cerchi in lega, radio Bluetooth e cruise control, garanzia Audi fino a febbraio 2023, 29.600 euro. A3 Sportback è la 35 TFSI, vuol dire che ha 1.500 benzina, 150 CV, ha percorso solo 27.000 km, vettura praticamente nuova, tantissimi gli optional, sensori, clima, sensore delle luci, CarPlay, cerchi in lega, Bluetooth, cruise control, sedili anteriori riscaldabili e anche la radio touchscreen, garanzia fino a gennaio 2023, ufficiale Audi, 30.400 euro. Vi faccio vedere un'altra, Audi A3 Sportback, sempre 35 TFSI, 1.500 benzina, 150 CV, soli 16.000 km, anche qui abbiamo il clima automatico, sensori luci, sensori pioggia, cerchi in lega, Bluetooth, cruise control, sedili anteriori riscaldabili, e radio touchscreen, 29.900 euro. E dal salone del Carville Svassina per oggi è tutto, ci vediamo domani, stessi canali, stessa ora, preparati.